Musica Rieccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Ben ritrovato Patrizio Bertin, presidente Ascon Conf Commercio Padova. Grazie presidente di essere ritornato qui con noi, era un po' di tempo e ci mancava. Ci mancava perché con lei possiamo fare un po' un quadro generale della situazione che riguarda commercio e servizi nel territorio e anche turismo naturalmente. E allora, ci sono tante tematiche, le accennavamo un po' prima della trasmissione perché sono tante le cose all'ordine del giorno che riguardano tutti quanti i cittadini del territorio e non solo perché ormai Padova ed intorni sono diventati centro di interesse turistico per molte persone per cui quello che succede in questa città o in quest'area provinciale va a coinvolgere anche coloro che la visitano occasionalmente. Per cui sono scelte strategiche. Le scelte strategiche sono condizionate però dall'andamento dei mercati e delle situazioni. Abbiamo comunque una battente inflazione al 10% circa Padova, tra l'altro risulta tra le città tra le più care, dove non ci viene risparmiato niente. Questo incide sul potere d'acquisto delle famiglie. Qual è la situazione? Che tipo di ripercussioni avete riscontrato? Se le avete riscontrate oppure in proiezione futura che cosa lei ravvede? L'inflazione è il 10% e quindi è una forte preoccupazione anche da parte nostra perché questo ha comportato tutta una serie di aumenti che vanno a non essere proprio propositivi per il turismo. Però devo dire che abbiamo avuto una grande, ma grande attenzione come fare gli aumenti. Perché è vero che Padova risulta tra le città più care d'Italia, tra le più, non la più cara. Però è anche la città che ha dei costi maggiori. Perché questo? Purtroppo l'Italia è lunga e stretta e quindi abbiamo visto che anche il Ministro vuole anche, si sta pensando, di creare una scala proprio sociale anche per gli stipendi perché al sud si spende meno e quindi non si può guadagnare al nord, non so, mille euro e al sud dare mille euro. Perché con i mille euro al sud stai molto meglio. Stai molto meglio, quindi c'è una situazione molto più complessa al nord e quindi è una situazione che è da anni che ci portiamo dietro questa difficoltà. Le posso dire che però tutte le nostre attività hanno avuto una grande attenzione per quello che sono gli aumenti perché per noi è devastante. Aumentare vuol dire anche mettere in difficoltà il cliente, quindi perdere la capacità di acquisto. Quindi per noi vuol dire perdere fatturato. E in questo momento qua, perdere fatturato non è che sia una cosa facile e semplice. Noi abbiamo dovuto fare gli aumenti che sono stati legati all'aumento dell'energia elettrica, aumenti che sono dovuti a tutto quello che è aumentato, i costi proprio delle materie prime che hanno portato a questo tipo di aumenti. Però sono stati aumenti calmierati, ma soprattutto sono stati aumenti fatti con coscienza che una parte è stata assorbita anche dall'impresa. Per questo abbiamo tantissime imprese in difficoltà. Però negli altri ambiti e settori ci risultano segni positivi per quel che riguarda i fatturati. Sono quindi relativi a realtà che hanno export o realtà a contatto con l'estero? Oppure si può dire che anche comunque le vostre aziende, fino adesso mettiamo una specie di divisorio, sono andate bene tutto sommato? C'è stato anche un movimento turistico interessante nelle varie festività, con i saldi e tutto, per cui tutto sommato le cose sono andate bene? Sì, per fortuna che veramente la città e la provincia ha risposto in maniera importante dal punto di vista turistico e quindi abbiamo avuto un incremento di turisti, abbiamo avuto un incremento anche nelle vendite, abbiamo avuto anche un incremento nel fatturato, però se uno dopo va a guardare la marginalità che ti resta, la marginalità è stata risucchiata da tutto quello che sono stati appunto gli aumenti delle materie prime, quindi noi ci siamo trovati a fare i bilanci di fine anno che o in perdita o a pari, i più bravi a pari, perché la marginalità è andata tutta su quello che sono stati appunto tutte le cose che conosciamo, gli aumenti delle materie prime, con una conseguenza devastante perché magari ti trovavi che andavi a acquistare dei prodotti che pensavi di poter vendere a una cifra e invece ti trovavi che dovevi quasi raddoppiare i prezzi, una cosa folle e questo non vuol dire fare commercio, questo diventa drammatico anche dal punto di vista proprio dell'imprenditore, non riesci a programmare un bilancio, avere un business plan dell'anno come può andare con i suoi alti e bassi, perché sei costantemente diciamo vessato da questi aumenti, non è facile. Ma per quanto riguarda l'inflazione ha colpito soprattutto i redditi fissi, i redditi medi e bassi, ne hanno risentito anche nell'orientarsi verso i consumi, perché noi abbiamo i dati che ci vengono da alcune associazioni di consumatori, i dati nazionali dove certi beni hanno avuto dei cali, sotto certi generi alimentari, funzione di certi servizi e dopo l'orientamento della spesa anche normalmente verso gli hard discount, oppure i prodotti in offerta, il prodotto in offerta scontato psicologicamente attrae notevolmente, avete riscontrato questo? Noi siamo i primi che stiamo combattendo anche a livello nazionale per il cuneo fiscale, il governo dovrà mettere mano velocemente a lasciare più soldi in tasca ai lavoratori, perché con le cifre che oggi sono in busta paga uno non riesce a vivere, questa è la realtà e quindi dobbiamo assolutamente far più pressione, perché il cuneo fiscale, con quello che sono aumentati anche solo i mutui, i mutui sono quasi raddoppiati, e molte attività commerciali hanno... Ci rendiamo conto che il potere d'acquisto di una famiglia è come può sopravvivere, i bambini sulla scuola materna che vanno a scuola, dopo parliamo di natalità, che c'è un calo demografico, ma una famiglia che deve fare i conti diventa insostenibile, se non lavorano in due, la famiglia non ce la fa se ha anche una fitta da pagare. Infatti molti dicono che adesso si sta raschiando un po' anche nei... Tutto, si sta raschiando tutto. E dopo anche il turismo nostrano ne potrebbe risentire in modo importante. Io spero che questo venga stravolto velocemente appunto, perché aspetto che il governo metta mano velocemente al cuneo fiscale. Non è in previsione però. Eh lo so, però noi faremo pressione perché venga riconsiderato il cuneo fiscale. È stato tagliato ma molto parzialmente, quindi dovranno fare... È uno sforzo ulteriore che dobbiamo fare, perché è inutile oggi con tutto quello che è successo in questi anni, un po' il reddito di cittadinanza, cose che ci diciamo da tantissimo tempo, sono cose che oggi, dopo la pandemia, è cambiato il mondo. Dobbiamo rivederle, dobbiamo riposizionare un po' tutto, aiutare chi ha problemi sulla famiglia, chi ha problemi anche quasi di sopravvivenza. Però dobbiamo creare e aiutare le imprese, perché queste generano lavoro, queste generano sono... Ormai è quasi diventato uno scopo sociale. Quindi aiuti i lavoratori, dai... Abbiamo visto tantissime imprese che a Natale hanno cercato di... Di dare dei benefit ai lavoratori. Quelli che hanno potuto farlo, ma le piccole e medie imprese, quelle che riguardano il nostro mondo, purtroppo non hanno avuto questo tipo di aiuto, perché sono veramente in grossa difficoltà. E noi con le nostre terfidi stiamo cercando appunto di dare, però al di là di essersi indebitati tantissimo durante la pandemia, insomma è sotto gli occhi di tutti. E nonostante che ci sia stata la ripresa del 2020-2021, purtroppo l'ultima botta che è stata quella delle materie prime, delle materie energetiche, hanno riportato indietro sul burrone alcune imprese. Noi in questo senso siamo molto preoccupati. Ecco, proprio nel settore commercio, tra l'altro questo si rilaccia al discorso occupazionale, c'è ricerca del personale, però molti non accettano certe proposte, non si presentano neanche, perché tanto sanno già che dovranno lavorare in momenti un po' penalizzanti, con comunque delle buste paga non così allettanti. Già le aziende non è che diano qua in Veneto, chissà quali buste paga. Nel settore commercio risulta ancora a volte più difficile, però vi ha ragioni, spiegabili, però di fatto voi lamentate che manca personale. In tutti i negozi, dovunque si vada, cerca si commessa, cerca si commesso, cerca si addetto. È un problema che riguarda un po' tutti, perché per mille motivi che ormai riconosciamo tutti, diciamo fai fatica a reperire personale. Questo è dovuto anche a una situazione che si è incancrenita nel nostro paese. E quindi non c'è più anche, specialmente negli alberghi, cioè la ricerca di cuochi. Quindi settore turistico e ristorazione. Sì, appunto. Adesso, brutta cosa che ho sentito e che mi ha veramente colpito è stata quella che qualcuno è andato in qualche albergo, si è comperato, tra virgolette, la flotta, dai camerieri ai cuochi ai capisala e se l'è portata su un altro posto. E questo, se cominciamo questa guerra... Quindi mettendo completamente in croce... No, questa, se comincia un'escalation di questo tipo qua, diventa veramente un serio problema per le imprese, perché qualcuno deve chiudere, perché se non ha personale deve chiudere. E quindi anche in questo caso anche il Ministro del Turismo si deve veramente preoccupare e capire come possiamo reperire forza lavoro. Chiaramente con questi stipendi qua è difficile. Poi hai sempre la minaccia di quelli che vengono a chiederti di lavorare in nero. Ma perché ci sono ancora? Ecco, e io mi sto raccomandando in tutti i modi, in tutti i sensi, che mi raccomando non prendete, perché poi un'impresa, se succede questo, è rovinata. Ma perché sono persone che hanno già un lavoro, vorrebbero fare il doppio lavoro? Perché sono persone o che lavorano già, hanno il doppio lavoro, o sono persone che hanno il reddito di cittadinanza, o sono persone che, insomma, vogliono lavorare in nero. E ci sono sempre di più. E noi siamo veramente... C'è lì, cercasi, cercasi, cercasi. Perché le imprese, fortunatamente, vogliono assumere persone in regola col contratto nazionale del lavoro, che è anche quello... Ma quanto un giovane, innanzitutto, c'è un'età dentro la quale vengono presi questi commessi, commesse, che magari fanno un apprendistato, e quanto riesce a guadagnare sostanzialmente? Questo che ci viene chiesto tante volte. Il nostro contratto nazionale è che un dipendente alle prime armi guadagna da noi, nel nostro lavoro, i 1.000 euro, 1.000, 1.100 euro, a uno che è appena entrato. Che età deve avere? In che range di età può entrare? Uno, quando ha finito la scuola, dell'obbligo, può venire nelle nostre imprese a lavorare. Dopo si sa che noi dobbiamo fare tutti i corsi di formazione, noi dobbiamo fare tutto quello che riguarda l'apprendistato. E quindi è anche questa una cosa che dobbiamo assolutamente cambiare nella nostra mentalità. Perché quando io faccio formazione, ti formo, ti creo, così dopo si crea quello che dicevo prima, che magari uno cambia, io ho avuto un costo importante, e magari va a lavorare da un'altra parte. E quindi anche lì ci dovrebbe essere e studiare una forma di tutela anche da questo punto di vista. Io sì, ti formo, ti insegno un lavoro, e ti pago giusto, perché è importante anche che ci sia la retribuzione adatta. Sono tutte cose che, secondo me, o questo Paese riesce a mettere in linea velocemente, o se no incontreremo dei momenti molto ma molto difficili. E la mancanza di forza lavoro è proprio anche perché abbiamo alzato il livello di scolarizzazione. Tanta gente va all'università, poi vanno all'estero. Chiaro. E per tanto, precisiamo questo per chi ci ascolta, prendi in busta paga sui mille, però costo azienda... Ah beh, il costo azienda è il doppio. È il doppio, certo è il doppio. Ma questo è proprio perché aprire, perché magari uno non è... Certo, costo azienda... No, io ho parlato di netto. Certo. Il costo azienda è il doppio. Ecco perché diciamo il cuneo fiscale. Il cuneo fiscale vuol dire che tu devi detassare l'impresa e devi lasciare più soldi in busta paga. Chiaro. No, no, questa è la cosa che uno si deve rendere conto, che purtroppo non quadra. Allora, torniamo ad altre tematiche. Naturalmente poi rispondiamo ai vostri messaggi dopo la pubblicità, tra poco. Ciao a tutti. No! Ciao a tutti. No! No! Grazie.